Ciao a tutti sono tornata con un nuovo video Avevo voglia di fare un video con delle domandine E quindi ho scelto di fare un video tag Ma prima di fare le domande Facciamo un bel balletto brutto Ho un mal di testa atroce Però volevo fare uscire un video Perché comunque voglio restare attiva sul canale Anche se ho la testa che mi sta esplodendo Per favore capitemi se dico qualche frase no sense Per favore Io sono davvero quella che credete? La prima domanda è Quali sensazioni pensi di dare alla gente che ti guarda? Penso di trasmettere positività Almeno spero Spero che la gente guardandomi Non so Gli venga un sorrisino A me basterebbe quello Anche perché cerco sempre di essere positiva nei video Di vedere il bello delle cose E quindi di non essere mai triste o arrabbiata Durante i video Anche perché non sono così Sono una ragazza a cui piace divertirsi A cui piace scherzare Quindi vedermi arrabbiata è davvero raro Tu invece Chi pensi di essere? Appunto Penso di essere una ragazza allegra Gioiosa A cui piace buttarsi nelle cose Non sono una che si tira indietro Una che ha paura di fare le cose Ma preferisco farle Piuttosto che rimpiangerle Di averle fatte Non so se avete capito il mio discorso Ritorniamo sempre alle frasi no sense Quindi capitemi Perché ho mal di testa Però Non so Forse sto farfogliando qualcosa Comunque Sono una ragazza allegra A cui piace giocare Ridere Scherzare Divertirsi Fare tante imitazioni Anche perché mi piace fare anche le imitazioni Anche se non sono brava Faccio cagare Di imitare Però Non importa Basta che Si ci diverte Insomma Spero che questa cosa Venga capita attraverso i video Anche se io sono da questa parte E voi siete dall'altra parte Però Spero che questa cosa Si percepisca Dicci qualcosa del tuo carattere Che nessuno mai sospetterebbe Sono una persona Molto testarda Se ho un obiettivo Faccio di tutto per raggiungerlo Non mi pongo paletti Non mi pongo limiti Se voglio una cosa E quella Ma qualsiasi cosa sia Non so Sono dimagrita per ecchi chili Ce l'ho fatta Mi sono messa in testa Un punto fisso Dove arrivare E ci sono arrivata Ma così in tutte le cose Per dire Prima di mettermi con il mio ragazzo Avevo in testa di conquistarlo Proprio doveva essere mio E così è stato Io veramente Non sopporto quelle persone Che dicono Non ce la faccio Che gettano la spugna Così in modo facile No Se volete una cosa Dovete fare di tutto Per avercela Proprio di tutto Di tutto Dovete farvi in quattro Dovete provarci Fino a che non vi riesce quella cosa Veramente È un consiglio che vi do Qualcosa che ti piace fare Sembrerebbe impossibile Mi piace giocare a bowling Anche se arrivo sempre ultima Quando gioco insieme ai miei amici O al mio ragazzo Arrivo sempre ultima Per quello tutti poi mi prendono in giro Perché non so giocare Sono una vera schiappa E lo riconosco Non so giocare a bowling Lancio la palla Così a capecazzo Come viene Viene E non so neanche in che direzione lanciarla E poi non ci sono neanche le barriere Quindi io quando la lancio Va sempre fuori Io già capisco Che non prenderò nessun birillo Perché quando già lancio Poi va subito a destra o a sinistra Basta giocare a bowling Roberta Non sei capace Non sei capace Dicci quali sono i tuoi valori I miei valori sono tantissimi E la maggior parte di questi valori Mi sono stati trasmessi dalla mia famiglia Uno di questi È il rispetto appunto per la famiglia Rispettare sempre il padre La madre I nonni Tutta la famiglia Vabbè io ci sono affezionata Da morire Io veramente Non mi trasferirei mai all'estero Puoi mai dire mai Però non vorrei Proprio perché sono troppo attaccata Alla mia famiglia Alle mie radici Un altro valore che ho È l'amicizia L'amicizia vera L'amicizia pura Un'amicizia ok Io posso fare affidamento su di te Tu su di me Sì sempre insieme Forever Così mi piacciono le amicizie Non le amicizie false Che così Così vengono vanno Si fanno sentire quando hanno bisogno Quando ormai non c'è più niente da fare Non gli interessi più Se ne vanno No io quelle persone non le tolgero Quindi cerco sempre di eliminarle subito dalla mia vita Perché voglio solo persone sincere E persone che mi vogliono bene Veramente per quella che sono Un altro mio valore È quello del rispetto del proprio corpo Io non andrei mai A farmi la foto al culo Col perizoma dietro E pubblicarla su tutti i social Ci sono persone Ci sono ragazze Donne Che purtroppo lo fanno Non si rendono conto Che così Sminuiscono la figura della donna Ma questa cosa Forse non entrerà mai in testa Un altro valore La fiducia La fedeltà Perché trovo che in un rapporto Tra due persone Due persone che si amano davvero Bisogna avere per prima cosa fiducia A uno dell'altro E soprattutto essere fedeli Perché io non posso amare una persona Mentre mi bacio con un'altra È una cosa inconcepibile E pure c'è gente che lo fa E non riesce a dire niente Riesce a mentire anche alla persona Con cui sta insieme Mentre lo stesso giorno si è baciata un altro Non so come caspita questo sia possibile Ma succede Succede Racconta la tua giornata perfetta Ok ci siamo Dormire tantissimo Allo mattino Tipo svegliarmi alle due del pomeriggio Poi pranzare Perché io non amo fare colazione È una cosa sbagliatissima Fate colazione Perché è un posto importantissimo Non seguite me Che sono un po' Scema Che non la faccio Comunque Pranzo sempre un po' tardino Quindi mi sveglierei Le due del pomeriggio Nella mia giornata perfetta Pranzerei subito Appena svegliata Neanche il momento Di andare in bagno No Mangerei immediatamente Poi Mi laverei Tutte quelle cose lì Fantastiche Bella Doccia Fresca Rilassante Poi Mi truccherei ovviamente Perché Non posso non truccarmi Già mai Quindi mi truccherei E farei Ogni giorno Dei trucchi favolosi Perché avrei Tanto tempo a disposizione Ogni giorno Quindi mi truccherei Proprio Come se stessi andando In discoteca Ogni santo giorno Dico i brillantini Se mi piacerebbe Tipo dei trucchi così Poi Vorrei uscire Dal pomeriggio Fino alla sera Non so Andare In diversi luoghi Magari viaggiare Andare Non so dove Caspita Voglio io Senza avere regole Senza avere pacugne Senza avere messaggi Di qualcuno Che mi scriva E mi dica Rabbi vieni a casa Muoviti Tipo di là Vorrei Essere libera Senza parriere Sarebbe un sogno Questo per me Però non è possibile Non è possibile Non è possibile E comunque Poi andrei a dormire Verso le Cinque del mattino Sì Perché Farei Molto tardi la sera Andrei Non so In qualche pub Karaoke A cantare Andrei a dormire Tardissimo Però almeno Mi sono goduta la notte Mi sono divertita Perché Io amo uscire la sera Amo stare fuori di notte Veramente Lo adoro E quindi vorrei stare fuori Più tempo possibile Cosa direste a tutte le persone Che giudicano in modo superficiale Ok Bene Qua stoppo la musica Perché è un discorso serio Perché io sono sempre stata giudicata In modo superficiale Quando ero sovrappeso Quindi una cosa Ho da dire A tutti quelli che giudicano In modo superficiale Guardatevi voi Allo specchio Parolaccia Bip Censura Perché Fatevi prima un etame di coscienza Prima di giudicare gli altri Le persone giudicano tutti In modo superficiale Da un video Da una foto Da uno stupito stato Su facebook Ironico Insomma Le persone vogliono Etichettare tutto Quella è cogliona Quella è stupida Quella è troia Quella è così Quella ha naso storto Quella è cappellico Quella ha la mesh Un po' più di lato Rispetto al solito Le persone mettono bocca Su tutto Quando invece Dovrebbero guardare Un po' loro stessi Prima di giudicare L'aspetto fisico Per altro Perché veramente Le persone che giudicano In base All'aspetto fisico Di un'altra persona Non hanno altro A cui attaccarsi Sano che possono attaccarsi Su quelle cose Dove si attaccano A quelle Se una Ha i capelli Di un colore diverso Si attaccano A quello Perché magari È diversa Dalla massa Dal solito Greggio di pecore Vede una Che magari È più Rotondetta Più chili Allora si mette a dire Eh guarda che grassa Con l'altro Con l'altro Con l'altro Io ho sempre Odiato quelle persone Che giudicano Sia le ragazze In carne E sia le ragazze Magre Perché alla fine Loro non sanno Cosa c'è dietro Non sanno I problemi Che magari Possono avere Quelle persone Loro sanno Solo parlarci Addosso Senza magari Chiedere O conoscere Quella determinata Persona No A loro non interessa Niente A loro interessa Solo sparlare E io ne so qualcosa Appunto Quando ero Sovrappeso Ero sempre Giudicata Anche quando Camminavo per strada La gente Mi puntava gli occhi Addosso Ok Sono come voi Non vedete Sì Ho i fianchi larghi Ho il culone Ma sono come voi Sono uguale a voi Queste cose Veramente Mi hanno sempre Infastidito E veramente Rabbrividisco Se solo mi ricordo Le parole Che la gente Usava su di me Perché sei su youtube Quali sono le tue Verre motivazioni Allora Io sono su youtube Per condividere Le mie passioni Per parlare con voi E parlare delle mie idee Come avete visto Finora Ad ogni domanda Ho espresso Un mio parere Che può essere giusto O sbagliato A seconda delle persone Che comunque Lo condividano o meno Comunque io Dico la mia Su questo canale Veramente Posso esprimermi Al cento per cento Con voi E quindi Io sono molto felice Di questo Il web È un mezzo Importantissimo Per esprimere Le proprie idee Le proprie emozioni E quindi Sono felicissima Di avere questo canale Da condividere con voi Infatti Vi voglio ringraziare Ancora una volta Senza di voi Questo canale Sarebbe già chiuso Invece voi Mi date affetto Ogni giorno Ogni giorno Mi supportate E mi spingete Ad andare avanti Siete una gran forza Siete una forza Ragazzi Veramente Io vi ringrazio Davvero tanto Questo canale Sta diventando Un mezzo di comunicazione Questo è fantastico Tra me E voi È una cosa Spettacolare Il video tag Purtroppo Finisce qui Se il video vi è piaciuto Spolliciate Oppure lasciatemi Un commento Qua sotto Riguardo a cosa ne pensate Di questo tipo di tag Se non siete ancora iscritti Iscrivetevi Cosa state aspettando Basta cliccare questo tastino Sotto il video Iscriviti E potrete rimanere Sempre aggiornati Riguardo i video Che faccio Un bacino a tutti voi Al prossimo video Vi saluta anche Il capello fuori posto